Quarto giorno di viaggio, siamo di nuovo in camper, in movimento, ci stiamo muovendo verso la Val di Susa a incontrare gli amici di Etinomia e ci muoviamo da Biella. Ieri è stata una serata veramente emozionante, bellissima, in cui è successo un sacco di cose positive, è stata una serata meravigliosa, con tante realtà che avevamo già incontrato nel viaggio in bicicletta, con un sacco di nuove realtà, anche perché hanno partecipato alla serata, tante persone, tante curiosi, tante persone curiose che hanno conosciuto il mondo Italia che è grande, si sono mappate, quindi siamo veramente contenti della riuscita di questo evento e siamo pronti adesso a vivere la prossima tappa proprio ad Avigliana per gli amici di Etinomia.